Ma scusate, ma che andiamo a votare a fare se dobbiamo ritrovarci i gentiloni? Veramente, io chiedo agli italiani uno scatto d'orgoglio. Votare ancora per quelli là, Forza Italia, Lega, PD, significa lasciare tutto com'è. Rimettere di nuovo questi signori al potere e farci altri cinque anni di gente che passa il tempo a cambiare casacca per interessi personali. Adesso è il momento di dire basta, è il momento di mandare a casa tutti, perché le coalizioni sono un imbroglio.